Guidati dal suo esempio, nulla potete saccare il suo lavoro. E le falte parole del male non raggiungeranno i nostri cuori. Così che quando giungerà la nostra ora potremo camminare al piano di sigma sul sentiero dei suoi. Alzate il capo, potete sorrendere. Dovete abbassare lo sguardo solamente sul nemico che giace ai vostri piedi. Nessun timore, nessuna sconfitta, nessuna codardia. Il nostro cuore è rivolto al nostro condoziero. Noi siamo i bastioni su cui poggia l'impero. sui quali il santo operatore ripone la sua fiducia. Quindi vi dico, sinne requie, bellum un'eternitate. Per fatum, out contra fatum, super vivevimus. In piedi adesso, il tempo è varale finito. Per Zygmarr! Per Zygmarr!